La domanda dei mutui ipotecari da parte delle famiglie dell'Abruzzo nel 2011 appena concluso ha fatto registrare una contrazione del 20% rispetto al 2010, dato ponderato sui giorni lavorativi. Lo segnala il barometro della società di informazioni creditizie, CRIF. A livello nazionale le richieste di mutui risultano scese del 19%, un dato che appare particolarmente significativo se si considera che nei due anni precedenti il trend in Italia aveva avuto segno positivo. L'analisi delle richieste di mutui a livello regionale conferma una contrazione generalizzata nella quale però l'Abruzzo, con un meno 20%, si collocano in una posizione intermedia rispetto al panorama nazionale. Entrando nel dettaglio delle dinamiche registrate nelle singole province, Pescara e Teramo si distinguono per aver rilevato la contrazione maggiore, ben meno 24%, segue Chieti, meno 18%, mentre meno pesante è stata la diminuzione riscontrata all'Aquila, meno 13%. Analizzando la distribuzione per fasce di durata si conferma la crescita della quota parte di domanda di mutui nelle classi comprese tra i 20 e i 30 anni, anche se rimane la classe tra i 25 e i 30 anni quella maggiormente preferita. Relativamente alla distribuzione delle richieste di mutuo in funzione dell'importo invece continua la crescita della quota di domanda nelle fasce più basse.